Ciao a tutti ragazzi, oggi a girare il video non ci sarà Vincenzo, ma un ospite speciale. Ecco a voi signori e signori, Vincenzo Junior! Ciao a tutti signori, sono il figlio di Vincenzo. No, scherzi a parte, mi sono dovuto tagliare i baffi perché ho dovuto fare uno spettacolo teatrale in Italia, che detta così sembra che sono Gasman, no? Mi sa che adesso mi toccherà anche cambiare il logo, che tra l'altro avevo appena cambiato. Però, detto questo, durante la nostra breve permanenza in Italia abbiamo cenato in una delle pizzerie preferite nostre, che è la pizzeria Elite ad Albignano, un paesino in provincia di Caserta. Questa pizzeria fa delle pizze buonissime, ma la nostra preferita è la pizza nel ruoto, che ci ha stregato una pizza di cui siamo illimitatamente innamorati, come direbbe qualcuno, per cui siamo risaliti in Germania con l'idea di replicare la pizza nel ruoto. E oggi la faremo con voi, andiamo ad impastare. Per l'impasto della nostra pizza nel ruoto utilizzerò un chilo di farina, di cui 800 grammi di farina in tipo 0, sto utilizzando in questo caso una caputo biologica, e 200 grammi di farina in tipo 1. Detto questo, vi lascerò nella descrizione del video la scheda tecnica delle rispettive farine, di modo che possiate utilizzare il brand che più preferite, o comunque quello che riuscite a reperire più facilmente nella vostra zona. 750 ml di acqua fredda, 25 grammi di sale fino e 3 grammi di lievito fresco di birra. Bene, iniziamo con l'introdurre gli 800 grammi di farina in tipo 0, ecco fatto, e i 200 grammi di farina tipo 1. In queste ricette è bello sfiziarsi, divertirsi con le farine da utilizzare. Potete utilizzare anche una farina integrale, una farina di tipo 2, insomma divertitevi. Deve avere comunque un sapore rustico la pizza nel ruoto. Vado a sbriciolare i 3 grammi di lievito fresco e faccio miscelare il tutto in prima velocità. Una volta che le farine si sono mischiate tra loro, inizio ad introdurre una prima parte di acqua. L'impasto sta prendendo colpo, io inizio ad introdurre la restante acqua molto lentamente. Verso la fine dell'impasto introduco il sale. Dopo 15 minuti l'impasto è pronto. Come vedete non appiccica più alle pareti della vasca, non appiccica neanche troppo alle mani, teniamo sempre conto che è un impasto idratato. possiamo estrarlo dall'impastatrice. Allora adesso come prima operazione vado a mettere un pochino di olio all'interno del contenitore. Questo ci agevolerà successivamente l'estrazione dell'impasto. Vedete? Vado ad ungerlo un po' ovunque così con la mano. Ok. Poi metto un altro poco di olio sulle mani, un poco anche sull'impasto. Vedete così mi aiuterà nella lavorazione e nella chiusura dello stesso. Prendo un tarocco. Stavolta tarocco singolo. Esatto. Ecco qua. E chiudiamo il nostro impasto. Una volta chiuso lo mettiamo all'interno di questo contenitore. Lo copriamo. E ci vediamo tra due ore. Dopo due ore il nostro impasto si presenta così. Possiamo già estrarlo dal contenitore. Vedete che grazie all'olio scivola subito. Lo andiamo nuovamente a richiudere per dargli ulteriore forza. In questo modo. Mamma mia. È proprio una seta questo impasto. È seta. Si vede, è un vicincio. Si vede. È un marmo di Carrara. Eccolo qua. Lo rimettiamo poi all'interno del contenitore. Questa volta con un panno umido. Ma va benissimo anche mettere un velo di olio sulla superficie. Comunque metto un panno. Lo chiudiamo. E andiamo in frigo. All'interno del frigo c'è ogni ben di Dio. Però c'è un piccolo spazio vacante. Lo mettiamo qui. E ci vediamo fra 24 ore. Dopo 24 ore prendiamo l'impasto dal frigo. E andiamo a stagliarlo. Adesso vi fa vedere come è il nostro impasto. Dopo 24 ore. Vedete, è bello rilassato. Lo vado a capatare. Vi aspetto che scende. Eccolo qua. Andiamo a stagliarlo. Eseguirò lo staglio a freddo. Perché la bassa temperatura mi aiuta a chiudere l'impasto ad alta idratazione. E farò dei panetti del peso di 260 grammi. Questo è un po' troppo pesante. Ok, 260 grammi va bene. Vi mostro come al solito la chiusura del panetto. Essendo molto idratato devo lavorarlo in velocità. Per evitare che si vada ad appiccicare alle mani. Quindi lo chiudo subito. Lo metto sul tavolo. Ecco, pochi movimenti decisi. Abbiamo chiuso il panetto. Lo mettiamo qui. Che fa compagni all'altro. Terminato lo staglio. Chiudiamo i nostri panetti. Li lasciamo riposare per 4 ore a temperatura ambiente. A dopo. Dopo 4 ore a temperatura ambiente. Il nostro impasto si presenta così. Come vedete i nostri panetti sono comunque abbastanza rilassati. In ragione dell'alta idratazione. Bene. Possiamo procedere alla lavorazione del panetto. Allora adesso devo mettere la pizza all'interno di questo rotino. Che ha un diametro di 26 centimetri. Come sapere quanto impasto mettere? Allora tendenzialmente faccio così. Aggiungo uno zero a quello che è il diametro del ruoto. Quindi in questo caso 26 centimetri sono 260 grammi di impasto. Infatti ho fatto dei panetti da 260 grammi. Però diciamo che non c'è una regola fissa, precisa. Dipende da voi. A gusto vostro. Cioè a chi piace più spesso e quindi utilizzate un po' di impasto in più. E chi invece piace più sottile utilizzate un po' di impasto in meno. Insomma, a gusto vostro. Come prima operazione vado ad ungere la base del ruoto con un poco di olio. Mi raccomando non esagerate. Ecco fatto. Possiamo stendere la pizza. Prendiamo il panetto. Voilà. La taggiamo sulla semola. E lo stendiamo. Allora, una volta steso il disco di pasta, andiamo a metterlo all'interno del ruotino. In questo modo. Voilà. Lo facciamo aderire per bene. Eliminiamo eventuali bolle di aria. Ecco la nostra pizza nel ruoto. Adesso lo lasciamo a riposare, sempre coperta, per una trentina di minuti. Il tempo che il forno arriva a temperatura. E poi passiamo alla farcitura. Bene. E' trascorsa mezz'ora. Il forno è arrivato a temperatura. Per cui possiamo farcire la nostra pizza. E come vedete è anche cresciuta un pochino. Andiamo a mettere un poco di mozzarella. Ecco qua. Mozzarella. Prova l'affumicata. Quello che c'avete. Sbizzarritevi. Divertitevi. Prova l'affumicata. È vero. Quando fate la pizza divertitevi. Non pensate a nessuno. Poi andiamo a mettere la salsiccia. Ecco qua. Questa qui è precotta. L'abbiamo precotta insieme alle patate al forno. Per farla insaporire. Però l'abbiamo lasciato un pelino indietro di cottura. Di modo che poi vada a completare la cottura all'interno del forno. Ecco qua. Quindi salsiccia. Patate. Che mo' al forno diverranno arroscatelle. Belle. E terminiamo con un generoso giro di olio. Ecco fatto. Andiamo in forno. Abbiamo messo la fiamma circa la metà. Perché la cottura deve essere abbastanza dolce. Ecco fatto. Come vedete inizia a colorare. Vedete? Quindi adesso vado a girare il ruoto. Ecco fatto. E ancora. Eccola qua signori. La nostra pizza nel ruoto. Ma quanto è bella. Una bomboniera. Mamma mia. L'abbiamo messo su questo finto tronco d'albero. Ok? Per dare proprio questa sensazione di autunno. E andiamo a completarla con una crema di peperone giallo. Eccolo qua. Andiamo a mettere così. E una crema di peperone rosso. Dai. Poi un omaggio dei nostri amici siciliani che ci hanno regalato il basilico. Quando siamo andati in vacanza a loro. Quindi approfitto per salutare. Ciao Alessandro. Ciao Roberta. Stiamo utilizzando il nostro. E il vostro. Scusa. Basilico. Ci siamo già presi la proprietà. Infatti. E cogliamo l'occasione per ringraziarvi e per dedicarvi questa pizza. Che dite? Spero vi piaccia. Mamma mia. È stupenda. Signori non vedo l'ora di assaggiarla. Anche perché la pizza nel ruoto è una delle pizze che preferisco. E questa qua è veramente uno spettacolo da vedere. Penso sia anche buona da mangiare. Però scopriamolo insieme. Onnensa io procedo con l'assaggio. Non sapete quanto vi invidio. In vicenza. Guardate la struttura di questo impasto. Signori. Una roba stratosferica. E vabbè io mangio. Mamma mia. Oh, che piano che crolla tutto. Mamma mia. Squisita. Uè. Una delle pizze più buone che ho fatto. Senti proprio la crema in bocca. Proprio cremoso. Ma voi mi fate venire fa' ma a me è ambicioso. L'unico aggettivo che posso utilizzare per descrivere questa pizza cremosa. Si scioglie moltissimo in bocca perché è molto molto idratata. Senti il gusto della tipo 1. Gli dà un tocco in più. Quindi più rustico diciamo come sapore. Però allo stesso tempo la farcitura è qualcosa di incantevole. Incantevole. Vi ricordo che avete Onnensa in attesa. Sto godendo. Eh ci credo. Sto facendo l'amore con questa pizza. E l'ultimo pezzo ciullo fu fatto fuori. Tocca a voi. Onnensa sta a voi. Siamo io e la pizza adesso. Esatto. Finalmente. Vorrei farvi vedere la bellezza di questo cornicione. Onnensa a voi. Grazie. Che dite Onnensa? No vicino. Cioè ma veramente si sente questo leggero crunch no? Sì. Ma poi la scioglievolezza subito dopo della pizza. Sì infatti questa è la cosa particolare. Crunch e scioglievolezza allo stesso tempo. E infatti. Chissà secondo me ci è riuscito a culo. Boh non lo so. Allora mentre Onnensa si strafoga la pizza. Vi invito a riproporla a casa vostra. La migliore pizza nel ruoto che verrà fatta. Ci taggate su Instagram. E andremo a regalare un simpatico gadget. Sì. Signori anche questo video è finito. Mi raccomando non dimenticate di replicare la ricetta. E di taggarmi su Instagram. Andremo a decretare il vincitore. Con che metodo non lo so. Penso a cacchio. Però invieremo qualche gadget. Anche questo non so che cosa. Qualche dedica qualcosa. Insomma ci divertiamo in qualche modo. Non dimenticate di seguirmi su Instagram. Lasciare like. Condividere il video. E ciao a tutti. Ciao. Vi vogliamo bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.